Sembra essere diventato letteralmente virale il video in cui si vede la bellissima cantante Salentina Emma Marrone all'interno di un taxi del simpaticissimo Il Duca 40, famoso tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato la bella cantante Salentina in aeroporto e l'ha invitata a duettare con lui sulle notte di estate, un successo meraviglioso di tipo musicale appartenente agli anni 60 del grande artista Bruno Martino. Il tassista, pensate che è un vero e proprio appassionato di musica e nel suo profilo tantissimi sono i video in cui si trova in compagnia di moltissimi VIP. Emma non si è tirata indietro, anzi ha deciso di ricondividere il video bello, efficace e piacevole nel suo account Instagram dove canta con il simpatico tassista romano. Più di 470.000 revisionizzazioni, un boom che ha letteralmente fatto il giro di internet. Il video vi consiglio di andarlo a vedere perché nonostante la semplicità per come è realizzato è molto piacevole, simpatico ed efficace. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione del presente video di oggi, complimenti al Duca 40, questo tassista simpatico e meraviglioso e alla bellissima e sexy Emma Marrone, cantante Salentina. Un saluto, al prossimo video, questo video non vuole vivere la sua privacy, nei video in video da 40 posso rinformare eventuali persone.